Questo aspetto, questa spiegazione, questa rivelazione dell'unione tra il cosmico e il ha dato luogo a Giorgia situazioni anche abbastanza di sofferenza oppure comunque di disturbo perché si è creato nell'ambito di quella che è l'ufologia tradizionale, il concetto di settarismo ufologico, di religione ufologica. Quindi c'è qualcosa di nodale che l'umanità non è riuscita a capire perché comunque anche l'ufologo, per quanto possa interessarsi dell'ufo, del mezzo, di fatto si è perso per strada quello che era il concetto fondante delle motivazioni della visita di questi esseri. Quindi è un problema dell'umanità. Perché accade questo secondo te? Accade questo per l'ignoranza perché noi abbiamo sviluppato e ci hanno inculcato e noi lo abbiamo accettato il valore del materialismo. Vedi anche noi che seguiamo e cerchiamo in qualche modo la spiritualità, anche noi siamo condizionati dal materialismo tutti i giorni perché e a volte con arroganza diciamo agli altri fate questo dovete cambiare quando invece noi che sappiamo di più continuiamo a fare le stesse cose che fanno tutti gli altri per sentimento, per salute, per cultura, per amore, per qualsiasi motivo umano giustificabile. Certamente non perché siamo delinquenti ma perché siamo cresciuti con quel valore sbagliato. Ci piaccia o no è sbagliato. Quindi la comunità ufologica ha vissuto con gli stessi parametri. Cioè non accettare la trascendenza del cosmo, non accettare che il cosmo non è solo quello che vedi ma è soprattutto quello che non vedi. Cioè quella che noi chiamiamo spiritualità, mondo spirituale, chiamalo come vuoi. Tutto viene parte da lì, tutto viene da lì e lì scopri che sei eterno. Quindi facciamo un esempio se tu vivi tutta la vita cercando di il benessere, il comfort, lo stare bene e nella nostra società stai bene solo se c'hai i soldi e quindi miri solo a quello è perché non contempli la trascendenza e la spiritualità. Perché se tu prendi coscienza che siamo eterni non te ne fotte niente né dei soldi né di qualsiasi cosa. Vivi per istinto e per amore e vuoi migliorare grazie a quell'amore le cose che non vanno. Perché tanto non morirai mai, ci provi. Invece noi pensiamo di essere eterni ma non ci crediamo. Noi pensiamo di vivere la spiritualità ma la tradiamo perché ci comportiamo tutti i giorni come si comportano tutti quelli che non credono. Quindi che cosa c'è? di meglio in noi. Niente. Cioè siamo peggiori dei laici, dei non credenti. Ecco perché io bazzico di più atei e non credenti che credenti. Perché loro sono più coerenti di noi. Quindi io mi sforzo, forse nemmeno io lo sono, di vivere la spiritualità e quindi vivo alla giornata. domani, tanto oggi sto facendo del bene, domani si vedrà. Se c'è qualcuno che mi aiuta, lo ringrazio. Se c'è e se non c'è nessuno che mi aiuta o ci aiuta, c'è uno che si chiama Doniesis, che è il padrone dell'universo e ci pensa lui il modo come mi deve o ci deve aiutare per parlare di Cristo al mondo. Questa è la mia filosofia. Cioè sembra quasi infantile, ma tutto parte dal fatto che io credo che tu sei eterno, io sono eterno, lei è eterno. Quindi a che cosa serve tutto sto stress? Perché vogliono farsi la guerra questi folli? Perché credono che poi finisce tutto e quei quattro giorni stupidi e fottuti che hanno se li vogliono godere comandando il mondo. Ma se domani prendono coscienza gli ucraini, i russi, gli americani, tutti, anche noi che siamo eterni, a che cosa serve fare la guerra? A niente. Diventa sciocco. No, diventa stupido e da meno matti mentali. Quindi il popolo... Però il problema è la cultura, non c'è stata una cultura della Chiesa Cattolica che ci ha insegnato l'eternità della vita.